Un modo per assistere gli anziani e metterli in guardia rispetto alle truffe. E' questo l'obiettivo della Questura di Salerno e della parrocchia Santa Maria della Speranza, che hanno organizzato un corso destinato proprio a questa categoria. La data del 2 di ottobre non è stata scelta a caso, essendo oggi la festa dei nonni, un giorno simbolico, ma ritenuto molto significativo. Noi abbiamo come comunità parrocchiale appoggiato l'avvento di questo convegno promosso dalla Polizia di Stato a favore degli anziani anche in un giorno particolare. Il giorno mi fu chiesto quale poteva essere un giorno in cui si poteva fare questo e io indicai il 2 ottobre. Oggi festa dei santi angeli, ma festa dei nonni. Oggi è la festa dei nonni. E quindi mi sembrava un'ottima occasione questa per proporre qualcosa che difenda i nostri angeli custodi in tegia, che sono i nostri nonni. Insomma, nella loro fragilità, legata tante volte alla tarda età, legata a situazioni anche a volte patologiche, da parte di noi che gli stiamo accanto, gli stiamo intorno, poterli difendere purtroppo da tante truffe, da tante situazioni di cui loro spesso vengono fatti oggetto. Ecco, questo è un po' lo scopo. Noi ci auguriamo che tutte le informazioni che questa mattina vengano date da parte della Polizia di Stato possano veramente mettere in guardia tante tante persone anziane.